il posti curiosi va lungo e nerdico stasiato dei secessionisti con il carro armato marciava contro roba sostenuti dalla folla col carro armato fatto con la colla per farlo si segue stretta la traccia data dalla trasmissione di mucaccia quando ecco all'improvviso l'auto mezzo inizia a venire giù pezzo per pezzo e purtroppo qui noi non arrivamo mancaolona il fiume mormorò ma guardate che mona